A me questa esperienza di laboratorio di saldatura è piaciuta molto, che anche se è stato solo un laboratorio e durato non tante ore, ho già avuto un approccio su come saldare, come si sta in un'officina. Insieme a questo abbiamo fatto anche un altro progetto, che è il portaskate, che abbiamo già montato fuori vicino all'Ipsia. A me è piaciuto questo corso soprattutto perché ho lavorato con i miei compagni, con i miei amici, anche perché abbiamo imparato cose nuove, tipo tagliare il ferro, saldare, ma mi è piaciuto molto il tempo di stare insieme, di stare in un'officina dove si lavora sul serio. Il corso di saldatura mi è piaciuto tanto perché mi piace imparare le cose nuove ed è stata una delle cose più belle e stupende che ho fatto sto anno. Questo corso ha aiutato la nostra collaborazione tra i compagni, tra la classe in generale, ci ha aiutato a comprendere che ci sono tanti sbocchi dalla nostra scuola, uno di questi appunto è la saldatura. Sicuramente è una nuova esperienza che abbiamo provato, quindi... All'inizio non ho partecipato al corso di saldatura perché non sapevo cosa fosse. Allora, a me il progetto di saldatura mi è piaciuto molto, soprattutto perché abbiamo distaccato un po' la teoria e ci hanno fatto fare il vero concetto di ITIS. Siamo partiti dall'idea di fare un porta skateboard, poi abbiamo fatto lo schizzo, il bozzo su un foglio e poi siamo passati direttamente al disegno in sé per sé. All'inizio sembra molto semplice saldare, soprattutto come ci ha insegnato il prof, un tubolare alla lastra, però ci abbiamo messo un bel po' di ore a capire bene come farlo. Secondo me non si fanno queste attività in prima principalmente per la sicurezza e perché non c'è gente che ha voglia di rischiare per dei ragazzi di prima. Secondo me non si fa in prima perché la scuola italiana pensa che non siamo ancora responsabili per farlo e quindi pensa che non siamo ancora pronti, ma in realtà abbiamo visto che si può benissimo fare anche dalla prima. È stata una bella scelta iniziare subito, infatti andando avanti col tempo si prende più la mano e quindi iniziare sin da subito è stata la scelta migliore. Abbiamo incominciato un progetto molto interessante, speriamo sia solo l'inizio, anche perché abbiamo messo in pratica tutti gli studi teorici che ci avevano insegnato i professori in classe. A scuola vado molto, molto, molto male. Sono stato sospeso, ho una media non tanto buona, sono uno che fa parecchio casino, però in officina sembravo un'altra persona, non ho fatto quello che facevo in classe, non ho fatto casino, ho seguito le regole e è andata bene secondo me questa esperienza. Grazie a tutti i nostri spettatori e i nostri spettatori.